Abbiamo una storia da raccontare, fatta di lavoro e di passioni. Era il 1965. Ernesto Pellegrini intuisce che l'evoluzione industriale sta cambiando le abitudini alimentari degli italiani e avvia lo sviluppo della ristorazione collettiva. Oggi il gruppo Pellegrini è una grande realtà imprenditoriale impegnata in Italia e nel mondo. Offre una gamma diversificata di servizi e prodotti. Ristorazione collettiva e commerciale, fornitura di derrate, buoni pasto, distribuzione automatica, pulizie e gestione dei servizi integrati. Sono sempre stato fedele ai miei principi e al mio modo di fare impresa. Serietà e trasparenza, lealtà nei rapporti, determinazione al continuo miglioramento sono valori che costituiscono il nostro carattere, la nostra riconoscibilità. Lavoriamo al vostro fianco, dalle prime luci dell'alba. Ogni giorno sono migliaia i pasti preparati con ingredienti di qualità e cucinati con cura, nella migliore tradizione italiana e nel rispetto delle altre culture. I menù sono studiati da esperti nutrizionisti e dietisti e realizzati secondo i più alti standard di sicurezza alimentare. Offriamo in ogni contesto la garanzia di un servizio personalizzato, flessibile, attento alle esigenze dei clienti e aperto anche ai loro desideri. Inoltre, l'esperienza e la competenza del nostro servizio tecnico sono sempre a disposizione per progettare e allestire ogni tipo di spazio. La Pellegrini si fa conoscere al pubblico nei ristoranti Valentina, il nostro modo di intendere la ristorazione commerciale. Per un cuoco il vero segreto è lavorare con passione. È un lavoro di responsabilità ma anche di grande gratificazione. Per questo in Pellegrini siamo così attenti alla qualità, dalla scelta delle materie prime, alla creazione delle ricette e alla cura per l'igiene. È bello sapere che si sta lavorando per rendere migliore uno dei momenti più piacevoli della giornata. La ricerca del meglio inizia dalle materie prime. Central Food è l'innovativa piattaforma logistica, azienda alimentare e centrale acquisti che approvvigiona i nostri centri di ristorazione e rifornisce molti altri clienti, grande distribuzione compresa. Selezioniamo i fornitori sulla base di un criterio di affidabilità costante. Controlliamo sistematicamente i prodotti con analisi ispettive, chimiche, microbiologiche e organolettiche, così da presidiare l'intera filiera produttiva. Ai clienti che scelgono la ristorazione Pellegrini garantiamo un doppio controllo delle derrate, effettuato sia dal personale specializzato di Central Food, sia dai cuochi all'interno dei ristoranti. Una ricerca di eccellenza che si esprime anche nella realizzazione di prodotti simbolo di qualità riconosciuta. Arcangeli, una linea selezionata di oltre 150 prodotti alimentari garantiti da Central Food. Gran Taglio, con la sua varietà di carni di pregio. Per noi è fondamentale effettuare internamente l'allaborazione delle carni. Possediamo impianti e tecnologie all'avanguardia, con grandi celle robotizzate. Le carni provengono da allevamenti selezionati, vengono lavorate, mondate e porzionate in diversi tagli e confezionate utilizzando diverse metodologie. È una soddisfazione poter dire che la nostra carne è una carne su misura. Siamo sempre vicini a chi lavora. Ogni anno milioni di persone pranzano con i buoni pasto pellegrini in una rete di locali selezionati grande come l'Italia. Ideiamo e realizziamo sempre nuove forme di soddisfazione perché tutti, clienti, utilizzatori ed esercizi convenzionati preferiscano i nostri buoni pasto. Tanti vantaggi per un servizio veramente innovativo. Sicuro per contrastare la falsificazione e la contraffazione. Sostenibile nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Personalizzabile in base alle esigenze del cliente. Ad ognuno il suo buono pasto, ma quello con il sorriso. La pausa è un piacere firmato pellegrini. Da sempre seguiamo l'evoluzione dei gusti ponendo la massima attenzione alla scelta dei prodotti e alla selezione delle migliori miscele di caffè. Proponiamo solo i distributori più funzionali e personalizziamo ogni spazio creando angoli di ristoro e socializzazione dove anche l'assistenza è a portata di mano. Quando il mondo spegne le sue luci noi continuiamo il nostro lavoro. Alle esigenze di pulizia e di gestione dei servizi integrati rispondiamo con prontezza e flessibilità. Specialisti qualificati, con attrezzature innovative e prodotti sicuri garantiscono in ogni contesto un servizio affidabile e curato. E' quell'attenzione all'igiene, alla sicurezza e alla qualità che è la radice della nostra esperienza. Il mondo Pellegrini nel mondo Attraverso la società Pellegrini Catering Overseas portiamo anche all'estero servizi di catering e alberghieri ad una clientela internazionale alla ricerca di quella qualità di prodotto e servizio che Pellegrini può garantire e firmare. Crediamo che le persone siano una ricchezza e un valore rinunciabile. Selezioniamo la nostra squadra secondo principi di moralità, correttezza e professionalità valorizzando il personale con costanti attività di formazione e aggiornamento nel rispetto delle competenze attenti all'evoluzione e alla soddisfazione dei singoli convinti che attraverso di loro si realizzi la nostra crescita e il nostro futuro. Siamo in continuo divenire il successo ci stimola sempre e poi l'entusiasmo e la passione per il lavoro ci rendono veramente speciali. Comprendere il presente anticipare l'evoluzione la nostra storia è fatta di questo un modo di essere che si conferma nella costante ricerca di soluzioni nuove per tutti il futuro ci attende noi siamo pronti la nostra storia è fatta di soluzione la nostra storia è fatta di soluzione che si fissi la nostra storia qualifiche di soluzione le dimensionali le dimensionali Grazie a tutti